Non si può finire, non si può finire un livello del genere inconcepibile che uno crea questo trappolo mortale per far diventare i giocatori di Mario Maker degli animali non è possibile, Maggio, perché fai queste cose? perché vuoi così male all'umanità? perché? perché? non capisco, perché non fa livelli semplici tipo con un salto, una bandiera è finito no, è dei pazzi, devi fare praticamente e io devo sclerare, devo stare qui esattamente 40 minuti per fare questa parte maledetta perché veramente mi sta facendo diventare un animale ci vediamo quando, forse, se un giorno riuscirò a farlo ma ne dubito, ne dubito fortemente purtroppo ah, ok, ora si, ora si, 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 vabbè ho trovato il metodo giusto vabbè, meno ma perché stavo imbazzendo ho trovato il metodo corretto eccolo qua, farla scramentare praticamente così guadagno un sacco di secondi e così più fattibile, così molto più fattibile oh, cavolo, ce l'ho fatta finalmente oh, finalmente sì, il metodo era quello così era molto più semplice perché il metodo che stavo provando io era una bestemmia e basta ve lo posso garantire oh, finalmente dopo 20 minuti vergognosi no cavolo, ma dammi un avvertimento che c'è una spina subito dopo la porta adesso che devo fare? non voglio morire perché non voglio provare più quella zona ho capito quello che devo fare, ma... devo farlo veloce, vero? mascio, devo farlo veloce ma metti un'indicazione, porco cane non riesco a capire niente che devo fare? eeeh boh il miracolo del messia che devo fare? ah, forse uscirà qualcosa di qui, vediamo ah, ok, questo eeeh ah, prendo questo, dai il tacco a spila gigante che non mi serve una mazza quindi no, no devo prendere assolutamente questo perché ne hai messo tutti questi potenziamenti? cosa devo fare con questi qua? devo giocarci? devo fare una serata un boat club? che devo fare con queste cose? pfff porca miseria qui ok e questo che fa? io non ho capito cosa devo fare mascio, ti giuro eeeh aaaaa e ora e ora no, ti prego non dimmi che devo iniziare da capo perché sto gridando ho fatto l'errore lo so ma non dimmi che devo iniziare da capo aaaaa beh boh di cervello ce l'ho dai sì ma eeeh sì ma e questa cosa serve? cosa cacchio faccio col trambolino? ho bagato il gioco, vero? ho bagato per la settecentesima volta a livello vero? vero? ma scetioti io ti oro come fa a non odiarti una persona? come fa a non detestarti con tutto il cuore? ma porca miseria ma perché crei tutte queste cose assurde? vabbè io bagato non si può neanche bagare è talmente vergognoso questo gioco che non si può neanche bagare allora ma pffa bella mi mancava la morte dell'imbecille che non sapeva aspettare che la bomba esplodesse e adesso abbiamo collezionato tutte le morti possibili e immaginabili nel livello di Marshall non manca più niente dai siamo almeno abbiamo fatto la collezione primavera, autunno e demenza ahhh sì sì ah sì ok forse ho capito quello che vuoi farmi fare per versare lo stato puro ho capito ho capito ho capito questo vero? ahhh ti ho capito finalmente ahhh finalmente riusciamo ad andare avanti grazie grazie mille la mia indesa questa volta è stata fantastica adesso eh ecco un altro problemone un altro Bowser batto ti prego fatti uccidere subito così la finiamo di soffrire non mi uccidere non mi uccidere ti prego ok funghetto ci voleva no subito tolto in due secondi ah per fortuna c'è il palotero che ce lo dà quindi ok ci siamo ci siamo allora ti prego dimmi che dopo questa c'è la fine perché non ne posso veramente più ogni volta arrivo stanchissimo alla fine del tuo livello in Marshall veramente una cosa praticamente vergognosa fin atto cosa c'è sarei curioso vitte eh ma Mario Bros 2 ok vabbè Mario Bros 2 ma perché Mario Bros 2 cosa c'è qui oh ma è difficile da guidare questo eh sì vabbè vabbè sì 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 come no come no come no come no reining con questo palotto ho capito molto vabbè così no così brutto così bruttissimo in testa no non uccidermi adesso devo prenderlo immagino plopped e via ok perfetto ho capito ho capito bello forse è perfetto appello 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 ma ce l'ho fatta appello ma ce l'ho dove cacchio sto andando devo andare qua dentro perché c'è un bellissimo checkpoint giusto ok secondo checkpoint e quindi significa che ci sarà un'altra parte ancora più bestemiosa infatti che cacchio devo fare qui oh gesù cristo ma che cos'è sto maccello guarda quante frecce ma proprio tutte queste frecce innanzitutto prendiamo il primo che sarebbe quello no è giusto che dovevo andare qui vabbè pazzi no no non mi farei bugare tutto ma porca miseria ma ce sei il magnate dei bug e ora ah vabbè sbloccato subito la zona ottimo almeno non ho perso tempo e adesso un altro giochettino stupido esatto un altro giochettino di medde ma non si può saltare tutto così me ne vado a caccare no devo farlo tutto devo soffrire come un animale ok perfetto che fatto e ora eccolo là eccolo là quello che volevo eccolo lì e adesso vabbè io vado di qua vado di qua spero di bugarti tutto e spero di finirlo per favore oh perché guarda non ne posso veramente più no devo prendere la chiave dove cavolo è questa chiave mi fai diventare pazzo macio non c'è niente da fare io sono una persona mediamente tranquilla perché mi fai diventare un animale questo è ancora un mistero saremo qua ho capito ho capito quello che vuoi farmi fare prima questo e ci siamo però non devo essere così stupido da caderci e infatti porco ma che pazzia è questa questa è una diavoleria a tutti gli effetti qua c'è la chiave giusto? e qua la chiave no? e qui la come faccio? vabbè forse è così il tuo livello è pazzo è pazzo non riesco a uccidere la cupa poi fatte guarda è fatta in un modo che non si può prendere maledetto ma perché l'è fatta così questa cupa cioè non posso prendere quella maledettissima cupa ma neanche per scherzo sali con le cattive oh e ora devi andare qua giusto? vai e non ci va non ci va baci oh finalmente 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 e adesso teniamo il nuovo indietro stiamo correndo come dei deficienti davanti e indietro il livello questo lo spacchiamo qua c'era la stella che secondo me è abbastanza inutile la stella però vabbè comunque la prendiamo comunque e che facciamo? è inutile perché poi alla fine cosa succede? se veniamo bloccati qua ah vabbè sì 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 vabbè sì ho capito ho capito va bene ho capito quello che vuoi farmi fare devo perdere tutti i potenziamenti non devo prendere ok ho capito ho capito ho capito perfettamente va bene adesso ma vabbè ma c'ho questo adesso è molto più semplice così è molto più semplice e non c'è bisogno di tornare indietro oh per il tempo per il tempo sto gridando aiuto aiuto mangio me l'avete fatta apposta muori 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 oh chiave presa mi sembra un miraggio mi sembra un miracolo e ora io non voglio morire mash te lo voglio dire se muoio qui grido se muoio qui sì 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 cavolo ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta a finire questo livello maledetto mash ce l'ho fatta sì 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 cavolo ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta a finire questo livello maledetto mash ce l'ho fatta non ho rechiquitato ma guarda il record guarda che Guarda quanto tempo mi hai imbiegato per finire il tuo livello 47 minuti Che in realtà non è vero 47 minuti dal primo checkpoint Ora ti dico in realtà Mi hai fatto spendere un'ora e due minuti Mascio sei veramente vergognoso Bello te lo do comunque Ma sei vergognoso Però è geniale Perché hai la mente Maledetta Per farmi diventare pazzo Hai tutti i requisiti giusti per farmi diventare una Iena E ci sei riuscito Grandissimo Mascio Man Ma ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Mascio Man Ti ho battuto questo livellone 47 minuti di bestemmia E noi da questo punto Ringraziamo carorosamente Mascio Man Per averci portato questo inferno ai occhi aperti Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Non ho reggibitato E ci vediamo al prossimo video di Super Mario Maker 2 Una buona giornata a tutti